Dopo la prima traccia di Apofenia che è Itz Loretta Nel frattempo Luis rimane a fare due chiacchiere con me A fine traccia rientriamo per salutarlo e fare altre due chiacchiere E proseguire poi con il resto di Coccobello Intanto ascoltatevi Itz Loretta degli Apofenia Luis Gioi e Simone Vizzoni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti